Operazione di carabinieri e polizia coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli con 13 arresti tra le province di Caserta e Napoli. Era in corso il tentativo di riorganizzare il clan dei Casalesi tra intimidazioni, pestaggi, estorsioni, sequestrate le armi utilizzate per minacciare le vittime. L'inchiesta sulle violenze in carcere, la Procura di Santa Maria...